Io mi sono laureata in biologia presso l'Università di Cagliari, dopodiché ho deciso di specializzarmi in procreazione medicalmente assistita con l'Università di Valencia, specializzandomi in biotecnologia della riproduzione umana assistita e quindi ottenendo il titolo di embriologa. Ormai da quasi 20 anni che opero e lavoro tra l'Italia e la Spagna occupandomi delle pazienti italiane e soprattutto delle pazienti sarde e accompagnandole nel percorso della loro maternità. Il mio lavoro è un po' cambiato nel tempo, quindi ormai non mi dedico solo alla ricerca. Faccio più un lavoro di campo quotidiano, giorno dopo giorno. Infatti a parte di occuparmi tutta la parte del laboratorio, accompagno anche le donne in tutte le fasi del trattamento. Quando io ho finito l'Università e mi sono laureata in Biologia ero contentissima di tutto quello che avevo imparato, però se ci pensiamo la Biologia è una scienza vastissima, quindi io ho deciso di dedicarmi a quello che più mi appassionava, che comunque era la genetica umana e la medicina riproduttiva. Io nel tempo sono riuscita a creare un ponte diretto tra la Spagna e la Sardegna. A livello di procreazione medicalmente assistita purtroppo l'Italia è ancora molto indietro rispetto alla Spagna e sono tantissime le coppie o le donne costrette ad andare all'estero per affrontare questo tipo di percorso. La mia realtà è una realtà femminile, nel senso che nella quotidianità la maggior parte siamo donne. Sì che è vero che da quando ho iniziato a lavorare il potere direttivo è ancora in mano degli uomini. Viviamo ancora in una società maschilista, si è fatto molto, però credo che ci sia ancora tanto da fare e noi donne siamo capaci, possiamo e arriviamo molto lontano e molto in alto.